E' deceduto nell'ospedale di Avezzano uno dei cinque braccianti agricoli rimasti coinvolti nella giornata di ieri in un incidente stradale sulla strada 30 del Fucino. Si tratta di un giovane di nazionalità marocchina di 33 anni, le condizioni dei cinque erano apparse sin da subito gravi. Il decesso di uno dei lavoratori nella piana del Fucino aggrava il bilancio dell'incidente e la procura della Repubblica di Avezzano a questo punto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri.